Sono professor Lallomagni, presidente della Facoltà di Ingegneria. Ti invito a consultare il sito della Facoltà per trovare informazioni sull'offerta formativa e sulle modalità d'accesso. I punti di forza della nostra Facoltà sono l'aurea triennale d'ampio spetro che ti garantirà una preparazione duratura per tutta la tua carriera lavorativa, laurea magistrale a grande vocazione internazionale, la laurea a ciclo unico in edile architettura, la possibilità di fare tesi in contesti ed alta innovazione tecnologica in collaborazione con i tuoi docenti, un grande numero di contatti con il mondo del lavoro che ti garantirà di trovare un lavoro qualificato appena laureato, un campus universitario molto stimolante, una città a misura di studente. Se hai curiosità o dubbi, non esitare a contattare me o il responsabile dei corsi di laurea, i cui indirizzi puoi trovare sul sito della Facoltà. Ti aspetto con tanta voglia di imparare per un futuro di grande successo.